...delle voci, pare che Yume Tanaka di Seneca abbia incitato la sua compagna... Ok, 22, vedi se riesci a finire davanti a Yume. Ok, non fatemi fuori a vicenda durante questa gara. Non preoccuparti, siamo di poter sentire di nuovo. Stai esagerando, l'hai vinto fuori. Fuori dai limiti della pista. Bene, ultimo giro di 1.39.0. Grazie a tutti. Grazie a tutti.